Bentornati a GFV per un nuovo episodio di Cento Latrine! Azione! Alex, Soleil, come stanno le cose tra voi? Alfo, io devo rispettare. Debila. Scusate, ma sono molto costernata per essere stata definita ingiustamente una gatta morta. Però che una gatta morta è una zoccolativa! Ma Delia, vuoi capirlo che questo è un game? Ti prego, Alfonso, farla entrare come concorrente. Solo così potrà capire. Capito, Alfonso? Come concorrente. A questo poi ci pensiamo, però Alex, non puoi negare che fra te Soleil c'è chimica. Ma è una chimica artistica! No, scusate, non mi fate girare le palle. Non era prevista la risata in questo momento. Che succede? Vabbè, mo Alex, chimica artistica, ma anche ho fatto i tuoi attori di Hollywood. Ma, Adriana... Guarda, non mi chiamare Adriana perché adesso mi alzo e me ne vado. Oh! Adoro! Aspetta, Alfonso. Devo chiudere la puntata. Tutto... Buonanotte!